Stai lì? Buongiorno! Mamma mia, cos'è che ci fai? Oggi vi faccio la fugasse, che è una cosa meravigliosa, un impasto, una via di mezzo tra il pane e la fugasse. Quello là dice di no, quel genovese dice che la fugasse è roba loro. Eh già, è vero, no no, deriva da un termine francese, ma è un impasto molto bello perché adesso ti farò vedere la forma, che è una forma particolare, è simbolo di nascita e di crescita. Ok. Allora, iniziamo con un chilo di farina di grano tenero tipo 2, la facciamo con il lievito di birra, ne mettiamo 10 grammi di lievito di birra fresco, mettiamo 550 grammi d'acqua all'interno. Tu dammi che io porto via, così ti do. Iniziamo ad impastare. Mentre impasto poi aggiungeremo l'olio e il sale, abbiamo anche la, cioè l'aromatizzeremo diciamo con la pancetta e le patate. Ok? Questo è un pane, una fugasse che si fa spesso, adesso si sta seminando il grano, perché noi ogni tanto ci fermiamo ma la natura non si ferma mai. E quindi in questo momento di semina diciamo che si fa questa tipologia di pane particolare perché è un buon auspicio per far sì che questo... La vedrete secco, questo raccolto, esatto, quindi mettiamo il nostro sale, che sono due cucchiaini, il nostro olio. Io vorrei fare un saluto importante, Antonella, a quattro persone a me carissime che tu secondo me conosci, che sono lì dietro le telecamere, che sono Gioia, Luca, Dimitri, Francesco, con cui che hanno una fiducia incredibile in me, perché io sai che sono l'ultimo e quindi mi danno i tempi e poi... Non a caso tu sei l'ultimo. Esatto, ma gli ultimi saranno i primi. E vieni che... Lì ci facciamo davvero tante risate e gli autori sono veramente incredibili, al di là dello scherzo. Noi diciamo che abbiamo davvero, anche in questa situazione, insomma così noi sorridiamo molto e cerchiamo di stare molto insieme e ci divertiamo molto. È davvero. E' quello che si veda perché poi a casa se c'è tensione si vede. Esatto. Cos'è che hai messo lì? Allora qui ho messo terra e carne, quindi parliamo della semina, il grano che parte da terra, patate e pancetta. Le patate erano sbollentate. Leggermente sbollentate ma non troppo. Mentre la pancetta cruda. La pancetta naturalmente è cruda, esatto. Patate e pancetta dentro nell'impasto, un chilo di farina tipo 2, 550 di grammi di acqua, 200 grammi di patate lesse, 10 di lievito di birra fresca, 22 di sale, 30 di olio e poi 100 grammi, un etto di pancetta a cubetti. Perfetto. Lo smarino lo vuoi mettere? Sì, lo mettiamo sia sopra e possiamo anche naturalmente metterlo dentro. L'impasto deve lievitare un'ora e mezza, verrà fatto così, guarda che meraviglia, è un impasto abbastanza morbido. Ecco, eccolo qua, e adesso facciamo la nostra fugaz, ok? Certo. Eccola qua. E andiamo a dividere l'impasto in due, facciamo un bel rettangolo, ok? Che sia bello preciso. Dividiamo il nostro impasto in due, eccolo qua, io ve ne faccio vedere uno, e facciamo, che cosa facciamo? La spiga di grano, ok? Che è composta, eccolo qua, vedi? Due e tre. Uno, due e tre. Uno e due. Ecco perché è il simbolo della crescita e dell'anni rinascita. Lo possiamo già fare naturalmente in teglia, ma se facciamo così, track, ce l'allarghiamo. Guardate che bello, vedete? Uno, due, tre, uno, due, tre, due buchi davanti. Questo impasto deve lievitare un'ora e mezza, qui così sulla teglia che si gonfia bene. Io l'ho fatta bella grande, così riusciamo bene a far vedere le persone a casa. Un po' di rosmarino sopra, mentre lievita. Eccolo qua. Che meraviglia. E questo è molto buono. E andiamo dopo un'ora e mezza poi a inserirla in forno e la facciamo cuocere a 250 gradi in forno statico per circa 15 minuti. Dipende poi dalla grandezza della nostra fugaccia. Io adesso te la faccio vedere. Quasi tutti i panni e le focacce abbiamo imparato che vogliono tanto calore. Sì. Molto, proprio parlavamo di questo. Senti, ma si può assaggiare? Bisogna fare così, guarda. Bisogna strapparla. Ah, perché si vedi. Ecco perché dicevo, la potete mettere quando vai nei campi. Sì, esatto. Eccola qua, la assaggiamo. Mmmmm. Sì, è buona. E poi la possiamo fare con le olive, piuttosto che con i pomodori secchi. In tutte le stagioni la possiamo fare. Queste sono le nostre maschere. Le maschere dei panettieri, no? Sì.